Per educare un giovane alla bellezza, io vorrei dirgli una cosa, quella che a me ha insegnato un grandissimo artista che è stato il mio maestro quando ero giovane, che era Oskar Kokoschka, mi verrebbe di dirgli impara a guardare, impara a vedere, a educare lo sguardo, a non dare per precostituito quello che si vede normalmente, per saper coniugare immaginazione e fantasia con pensiero e con ragione e le cose possono avere tanti punti di vista e non debbono essere degli stereotipi o delle considerazioni così ovvie, banali e abitudinarie e quindi ecco guardarsi intorno e saper cogliere ogni istante come se fosse il primo e l'ultimo, questa è la prima cosa perché credo che appunto bisogna educare lo sguardo e bisogna imparare a leggere le cose e ad interpretarle. Penso che non si possa costruire il futuro se non si guardano le proprie radici, se non si hanno le memorie del proprio passato, se non si guardano anche proprio le cose essenziali, credo che bisogna saper guardare, non so, il passaggio di una nuvola, bisogna saper guardare una terra che è assolata, bisogna sentire il canto di un uccello, bisogna vivere questa realtà e sapersi guardare indietro, saper ritrovare nella propria memoria le cose, quindi non c'è futuro, non c'è diciamo contemporaneità escludendo le tradizioni e il passato, sono due cose che si negli uccello insieme. Personalmente amo l'arte contemporanea anche perché rappresenta la mia epoca, io stessa dipingo, molti dei miei quadri sono opere di amici miei o di persone che ho conosciuto, quindi non è una collezione diciamo scientifica, ma è proprio più che altro una collezione di tipo affettivo, sono per la maggior parte quadri di persone che ho avuto il privilegio di conoscere e che sono stati amici miei e quindi ecco perché vede tanti quadri, ma non è un rifiuto, il bello è sempre bello, può essere antico, moderno, non cambia, sia bello è bello. Ho scelto questo quadro, me lo sono messo qua in casa perché mi piace molto, forse mi sento profondamente religiosa e questa immagine della Madonna mi piace molto anche perché è un'immagine concreta, reale, vitale di questa giovane donna molto tenera, molto dolce, che cuce e non è aulica come spesso si dipingono questi soggetti sacri, è molto tenera e perché ce l'ho qua? Anche perché non avrei potuto scegliere altri quadri nella Pinacoteca perché è tutto notificato, quindi non ho la possibilità di prendere, spostare e cambiare le cose come voglio e questo non era, non faceva parte della Pinacoteca e è un'immagine molto dolce e in fondo è poi anche la coppia di quello del palazzo che abbiamo di fronte perché rappresenta poi l'affresco del Reni che sta nella cappella al Quirinale, ma insomma soprattutto è un'immagine così, dolce. Ecco perché iniziative come questa di capolavori da scoprire è molto importante, credo che appunto noi l'abbiamo cominciata a Roma, ma dovrebbe essere una cosa che dovrebbe essere fatta un po' in tutta Italia, abbiamo un paese così ricco di cose che appunto se i ragazzi imparassero a conoscerle invece di andare tanto all'estero o andare a Maldivia o le Seychelles insomma incominciassero a conoscere bene il loro paese, ogni regione ha dei capolavori straordinari, credo che dovremmo tutti quanti responsabilizzarci e aprirci in questo senso per poter proprio mettere a disposizione di tutti questo patrimonio che è unico al mondo, insomma in fondo credo che il 75% delle bellezze artistiche sono nel nostro paese, di tutto il mondo, per cui è importante darsi da fare in questo senso e penso che anche l'iniziativa appunto di Telecom Italia, Progetto Italia di mettere diciamo queste esposizioni su internet e quindi di renderle accessibili al grande pubblico non solo a quelle della città, mi sembra un'iniziativa estremamente importante, anche perché si tratta di dimore private che non possono essere fruibili dal grande pubblico perché appunto per esempio ecco da noi è tutto notificato, addirittura anche il portacenere quindi non possiamo far entrare tantissima gente, quindi ecco un'iniziativa del genere mi sembra molto giusto e molto utile ad educare e quindi diciamo diventa anche un dovere sociale farlo, proprio c'è bisogno di questo.